Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale! Come avete detto dal titolo, oggi video super mega colorato e super allegro perché ho deciso di realizzare 4 outfit ispirati al Pride quindi saranno super arcobalenosi e colorati e noterete che le tre ragazze che andrò a modificare sia negli outfit che nei vari accessori sono delle ragazze che abbiamo già creato precedentemente ma per questo video ho aggiunto anche un giovincello quindi tre ragazze e un ragazzo e quindi niente ragazzi e ragazze io spero davvero che questi outfit vi piacciono e noi ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti